Ben ritrovati a questo corso sugli skid bash e siamo giunti alla lezione 9, nella quale vi presento quello che ho chiamato lo smistamento. Perché lo smistamento? Perché parleremo in questa lezione specificatamente di un solo comando che si chiama case, case che praticamente cosa fa? A fronte di una serie di condizioni, valutate appunto all'interno di questo comando, smista l'esecuzione del codice, o meglio esegue delle parti di codice a fronte di una serie di condizioni. In sé può essere paragonato a un insieme di decisioni if, come quelle che abbiamo visto nella lezione precedente, oppure addirittura potrebbe essere anche sostituito con una serie di if innestati uno all'interno dell'altro. Ma è chiaro che poi il codice del nostro bash sarebbe più difficile da leggere, quindi diciamo che uno dei vantaggi di usare case al posto di una serie di if è una maggiore leggibilità del codice, una più facile interpretazione del codice che ci troviamo davanti ai nostri occhi. E anche una maggiore eleganza diciamo in certe situazioni, quindi diciamo che tipicamente un comando come questo, come case, si usa per interpretare per esempio la risposta data alle varie opzioni di un menu. Mettiamo che un menu ha un menu di offerte, di funzionalità di un programma o del nostro script bash. Ne ha, che ne so, due, cinque, dieci, quindici opzioni di menu, ecco che per ognuna di esse deve essere eseguito una parte di codice diversa, è molto elegante, compatto e facilmente leggibile usare un comando case per interpretare la risposta da questo menu. La sintassi base del comando case è appunto inizia con case e una variabile da interrogare, quindi un valore da aver lì da interrogare, poi seguono le condizioni in, una parola fissa, prefissata, e poi cominciano le condizioni, condizione 1 fai questo, condizione 2 fai questo, condizione n, ennesima condizione fai questo, l'ultimo, l'else, ecco che ci ritroviamo con l'altrimenti anche qui, un po' come l'if, denelse della lezione scorsa, ci ritroviamo anche qui con una particolare condizione che non necessariamente deve essere inclusa ma può essere aggiunta, che è fissa così, asterisco, che vuol dire tutto, ancora una volta il nostro wildcard, asterisco vuol dire qualsiasi altra condizione che non sia già stata prevista nelle condizioni precedenti, quindi giunge qui solo qualora nessuna delle condizioni precedenti fosse soddisfatta, quindi l'altrimenti fai qualcos'altro. E si chiude con la parola esak, esak che è il contrario di case, un po' come l'if che si chiude col fi, il case si chiude col esak, è un po' così un vezzo di chi ha creato il motore bash che ha deciso di aprire e chiudere un blocco di comando con la parola al contrario, ha un suo senso un po' particolare però. Ecco, un esempio, l'ho messo anche qui nel nostro testo che accompagna la lezione, però lo vediamo poi in pratica qui, nello script, lo stesso esempio, un paio di note, l'ultima condizione con l'asterisco sta per tutto il resto, appunto quello che ho appena detto, l'elzel, altrimenti è la condizione fissa asterisco che la vediamo anche qui nell'esempio, questo vuol dire se nessun'altra condizione è soddisfatta, entra qui e fai quello che ti ho detto di fare lì. E nota 2, è importante da sapere per poter impostare correttamente il flusso del nostro bash, del nostro script bash e sapere come si comporta questo comando, qui la regola è questa, appena una delle condizioni è soddisfatta il blocco case termina e si esce, quindi che sia subito la prima, che sia la quinta, che sia l'ultima, appena ne incontra una che soddisfa la condizione va e fa quelle operazioni che noi gli diciamo di fare ma poi il resto non viene più verificato, quindi appena ne incontra una valida, ok, entra lì e fa quello, poi esce dal case, dal blocco di comando case esac, ecco, quindi vediamo subito l'esempio, quindi facciamo partire il nostro script che è il 9, lezione 9, enter, eccolo qua. Come funziona questo esempio? A parte il solito clear, abbiamo una variabile impostata con il valore 15, m uguale a 15, è una variabile m uguale a 3, quindi la variabile che viene verificata nella condizione, quindi nella decisione case, chiamiamola così per agganciarci un po' alla lezione precedente, è la m, quindi noi valutiamo tutte le condizioni, quindi queste previste nel nostro blocco case, nel nostro comando case, blocco comando case, sono valutate, quindi sono verificate tutte queste condizioni sulla base del valore di m, sappiamo che m è 15, cosa ci è tornato al nostro script? Il valore di m è 2, oppure 4, oppure 15, andiamo a vedere a quale condizione corrisponde, quindi noi sappiamo che è entrato con 15. Allora, 15 è 0? No, non ha fatto questa condizione. 15 è uguale a n, la variabile n che è 3? No, non è uguale a n. 15 è 2, oppure 4, oppure 15, ebbene sì, 15 coincide col 15, ecco perché il comando case ha eseguito questo eco, il valore di m è 2, oppure 4, oppure 15, se comportato correttamente. Ecco, fra le stranezze, se vogliamo, della sintassi di bash, che ormai ne abbiamo già viste parecchie a questo punto, non ci sorprendono più se ne incontriamo delle altre, vedete che l'or, quindi nelle condizioni case del comando case possiamo usare l'or, l'oppure, quindi or in inglese vuol dire oppure, quindi questa condizione è soddisfatta se la variabile m ha il valore 2, oppure 4, oppure 15, quindi basta che sia soddisfatto uno di questi valori affinché sia vera questa condizione, ma vedete che l'or, al contrario dell'if della lezione precedente, non è la doppia barretta verticale, ma è singola. Ecco, questo, ripeto, prendiamo atto che così, avete qui l'esempio, sapete come fare. Vi ricordo che la puntata precedente, la parte precedente del corso, abbiamo visto che l'end era la doppia E commerciale, e l'O, l'oppure dell'if è la doppia barretta verticale, in questo caso nel case la doppia barretta è diventata una singola barretta. Pazienza, sarebbe stata meglio più coerenza, ma vabbè, prendiamo atto che sia così. Ecco, quindi vedete che a seconda del valore della variabile m, il case reagisce in modo diverso. Facciamo altri esempi, quindi stavolta mettiamo l'n uguale la m, per esempio, perché no? Vediamo come reagisce il nostro script, lo facciamo ripartire, quindi freccetta su, enter. E stavolta ci risponde diversamente, m e n sono uguali, come mai? Perché la seconda condizione qua verifica che l'm, che diciamo è lì da una parte nella memoria del comando case, viene confrontato con questo altro termine, un'altra parte, nella memoria n, della variabile n, quindi m uguale a n, sì, allora risposto questo, il case è finito, il comando case. Chiaro che non è, diciamo che la condizione di confronto non è così scritta esplicitamente come nel comando if, non c'è scritto proprio uguale, ma è implicito, nel senso che il comando parte così, case m, quindi si prende in memoria il valore della variabile m, in questo caso 15, e poi inizia a confrontare una condizione dopo l'altra implicitamente con l'uguale, ecco, deve coincidere, quindi l'm uguale a 0, no, l'm uguale all'n, in questo caso sì, l'm è uguale a 2, oppure 4, oppure 15, m è un numero fra 0 e 9, è una cifra? fra 0 e 9, sì o no, il valore m inizia con un numero, sì, no, eccetera, vedete qui le varie condizioni, e comunque è implicito che queste condizioni, una dietro l'altra, applicano un confronto tipo uguale, quindi l'm uguale a, se non è uguale a niente entra qui appunto nell'asterisco, ecco, quindi se noi mettiamo l'm, vediamo un po' l'n, lo facciamo tornare diverso dall'm, se l'm lo mettiamo a 0, vediamo cosa succede, ecco, non ha scritto niente, nessun comando eco, perché? perché 0 è questo e non c'è scritto niente da fare, non fa niente, quindi tra la condizione 0 da verificare e il doppio punto e virgola che conclude il codice da eseguire per quella condizione non c'è niente, c'è solo uno spazio, vuol dire che non fa nulla, infatti se m è uguale a 0 non fa niente e non ci ha fatto niente. Adesso se noi mettiamo m uguale a 1, salviamo il nostro esempio, se noi mettiamo m uguale a 1, vediamo cosa dice, il valore di m è una cifra fra 0 e 9, perché? Perché non è 0, non è uguale a n, non è né 2 né 4 né 15, quindi la prossima condizione vada è questa, in un intervallo fra 0 e 9 1 ci sta e quindi siamo a posto, e c'è ritornato il valore di m è una cifra fra 0 e 9 e così eccetera eccetera eccetera. C'è la possibilità anche naturalmente di, non solo con i valori numerici, ma di lavorare con valori alfa numerici, vedete per esempio questa condizione dovrebbe attivarsi quando m è una lettera dell'alfabeto, quindi se io metto m uguale a r, anzi giusto per così, proviamo così, per avere la sintassi delle stringhe corretta, formalmente corretta, vediamo cosa ci dice, il valore di m è una lettera dell'alfabeto, perché m è uguale a r, quindi tutto questo non è soddisfatto per i numeri, ma la prima condizione valida è questa, e così vi avete capito. Quindi il case, questa lezione l'ho chiamata smistamento, proprio perché il case avete visto smista a seconda della prima condizione valida che incontra dall'alto verso il basso, la prima condizione esegue quella. Qui potete sbizzarrirvi con questo esempio o capire dove applicarlo a un vostro script bash, questo comando molto pratico e anche in sé facili da leggere tutto sommato, le condizioni ben raggruppate e compatte l'una dietro l'altra, e poi si chiude con ESAC. Direi che per questa lezione è tutto, vi do appuntamento alla prossima, un saluto, ciao ciao! Ciao!